questa bellissima cagnolina che vedete in piedi per prendere il bocconcino si chiama Peggy Peggy ha un anno e mezzo è una cagnolina giovane giovane guardate che carina è l'argento vivo addosso è una peperina veramente guardate che carina è tutta nera guardate che bella molto golosa come potete vedere perché per prendere il bocconcino si alza in piedi guardate che carina fatti vedere Peggy guarda guarda che carina ecco guardate il musetto di Peggy bellissima guardate che bella che Peggy ha un fisico bellissimo ha una femminoccia giovane giovane è un nuovo arrivo del bari alpignano è appena arrivata guardate che carina che è Peggy vieni tata Peggy brava tata guardatela un po' che carina guarda Peggy eccola brava tata molto carina Peggy molto carina molto carina Peggy eccola qua lei si trova qui al bari alpignano venite a conoscerla si chiama Peggy guardate che amore di cagnolina e non guardate che carina ciao wifi ciao 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 Grazie a tutti